Amiche e amici del Corner Sampdoriano, credo che l'immagine di Morten Torsby incerottato e con la benda stile Giorgio Chiellini sia un po' la metafora della Sampdoria in questo momento, in questa versione anno solare 2022 che colleziona zero punti in tre partite, che porta a casa la terza rimonta subita casalinga consecutiva, ci mettiamo pure quella di dicembre contro il Venezia, quindi completamente annullato l'effetto positivo di dicembre, ora questa squadra inizia ad avere l'acqua alla gola dal punto di vista della classifica, urgono rinforzi, la società lo sa e ci sta lavorando, perché la metafora di Torsby? Perché è una squadra a cui probabilmente non manca l'impegno, mancano mezzi in questo momento e il risultato, la sufficienza, nulla si raggiunge, oggi si affrontava un avversario più forte, più strutturato, più in forma, più organizzato, che ha vinto meritatamente, mi rendo conto che in queste analisi post partita, lo sto dicendo spesso, direi che la colpa principale fin qui del Doria è stata la sconfitta col Cagliari, perché se questa è una sconfitta grave in cui chiaramente si poteva fare di più, si poteva provare a raggiungere se non altro, a portare a casa un pareggio perché ogni tanto questi punti da qualche parte li devi fare, la colpa di questa squadra è la sconfitta, è il secondo tempo col Cagliari, perché pure in una situazione d'emergenza la partita si era messa bene lì e farsela scivolare via, come abbiamo già detto, è stato un peccato grave. Oggi partita difficile con tanti deja vu a partire dal secondo gol in campionato da ex di Prat, l'altro come sapete l'ha fatto all'andata, ancora un Doria che la sblocca subito, questa volta l'ha sbloccata Caputo su Assis di Gabbiadini, Caputo che curiosamente aveva fatto un altro gol inutile in questo campionato contro l'Atalanta e quindi approfittando di una situazione simile contro una squadra che appunto nel caso in cui in modo imprevisto perda il pallone, saltano le marcature e diventa esposta. Il gol l'aveva trovato in modo simile appunto contro la squadra di Gasperini un paio di mesi fa, oggi l'ha trovato, ha sbloccato la partita, poi però il Toro quel gol non l'ha sofferto minimamente, non è stato scalfito in nessuna delle sue certezze, si è messo a macinare calcio e alla fine l'ha portata a casa come dicevamo meritatamente. E' stata una partita molto molto difficile da leggere difensivamente per il Doria perché il Toro sceglie e soprattutto questa cosa si è vista nel primo tempo di attaccare in modo asimmetrico perché ed è una cosa che ho notato principalmente da un indizio e cioè i due che aggiungono più maggiore imprevedibilità alla squadra di Juric sono i due che supportano la coppia di rifinitori che supporta Sanabria. Ma se Pratt è stato spesso preso da Dragusin, quindi da un nostro difensore centrale, dall'altra parte Brecalo si allargava di più e nel primo tempo veniva affrontato più spesso da Berechensky. Tutto ciò per dire che comunque spostandosi, muovendosi e attaccando con tantissimi uomini il Torino ci ha fatto capire veramente poco e ha avuto discreta facilità a creare occasioni, costruirsele, avrebbe anche potuto chiudere la partita, trovare i gol prima, insomma è stata una partita difficile da interpretare difensivamente, ci ha fatto una brutta figura Dragusin secondo me che sta facendo discreti passi indietro da quando sta guadagnando minutaggio per le assenze di cui sappiamo di Yoshida e Colley se prima quando entrava da backup dei titolari faceva delle buone partite non era scontato perché lo faceva entrando comunque a gara in corso e mettendosi subito con la testa dentro la partita concentrato, da quando sta giocando il titolare sta inanellando una serie di brutte figure un po' preoccupanti oggi appunto Pratt l'ha abbastanza portato a scuola, Ferrari invece ha avuto maggiori riferimenti e invece ha portato a casa una prestazione direi sufficiente se non altro insomma decorosa. Anche a centrocampo un altro dei segnali, degli indicatori della fatica che ha fatto il Doria a contenere i Granata è stato il lavoro di Gabbiadini che abbiamo visto ispirato nella rifiutura su Caputo un paio di volte al tiro in porta dopodiché è stato costretto più volte e non su calci piazzati contro ma proprio su azioni manovrate del Torino a venire a difendere fino dalle parti di Falcone ha fatto una chiusura in calcio d'angolo, tante volte si è dovuto sacrificare su Mandragora questo è stato un altro dei dispositivi tattici che il Toro ha messo in pratica per far andare in tilt il sistema difensivo del Doria gli inserimenti di Mandragora il Toro non ha un vero e proprio regista in teoria quello che fa gioco è Lukic ma raramente la manovra di Juric parte da un centrocampista davanti alla difesa che si mette a smistare Mandragora tante volte prendeva, partiva e si buttava negli spazi aperti dai movimenti a rientrare di Sanabria, di Prat ad allergarsi di Brecalo un po' lo prendeva Gabbiadini, un po' lo prendeva Aschilzen ma anche lì abbiamo fatto fatica per chiudere l'analisi sui meccanismi tattici del Toro che il Doria ha avuto gravi difficoltà a leggere sono state le catene laterali, questo 3-4-2-1 diventa molto efficace quando fanno superiorità numerica i giocatori Granata quando spostano il pallone lateralmente ed è successo soprattutto a sinistra non a caso i due gol nascono da sinistra e vengono chiusi con l'inserimento da destra alla Gasperini per intenderci, il primo proprio è da manuale con Voivoda che crossa e l'altro quinto o quarto Singo che la chiude, soprattutto a sinistra il Toro ha costruito andando a sovraccaricare quel lato con tanti giocatori perché da quella parte scendeva Rodriguez, si associava con Voivoda appunto con Brecalo largo e con Mandragola che andava anche a palleggiare lì vicino quindi lì abbiamo fatto fatica, spesso eravamo in inferiorità numerica e questo ha anche costretto che Andreeva ha una partita di grande sofferenza è uscito un po' nel finale ma ancora nel 2022 anche perché in una partita era squalificato a Napoli e nelle altre due abbiamo fatto un po' difficoltà a vedere il che Andreeva ha ispirato della seconda parte dell'anno solare 2021 che Andreeva è un giocatore che deve macinare tanti palloni non a caso ha i numeri felici, vincenti, clamorosi che ha dal punto di vista statistico come gol, assist, occasioni create anche perché di palloni ne gioca molti è il giocatore di gran lunga che crossa di più in tutta la Serie A e in questo frullatore che sono le partite contro il Toro di Juric raramente lo abbiamo visto appunto quando la partita si è un po' sfilacciata allungata, sporcata nel secondo tempo ha avuto delle occasioni in cui ha potuto puntare il diretto avversario raramente ha fatto binario però con Bereshensky quindi principale fonte del gioco e di imprevedibilità del Doria abbastanza spenta, inaridita l'altra che sono i colpi di testa di Morten Torsby è stata depotenziata dall'episodio, diciamo dallo scontro con Zima nel primo tempo Torsby inevitabilmente ha perso un po' di verve dal punto di vista degli stacchi, della fisicità, del vigore negli scontri e non a caso tra l'altro Zima invece soprattutto nel primo tempo per concludere lo sviluppo della manovra del Toro restava un po' più bloccato e il Toro appunto preferiva partire dall'altra parte partita di Rincon che gioca alla sua prima da titolare con la maglia della Samp diciamo che è un giocatore che in questa Samp ci può stare al momento serve, anzi più che ci può stare serve dopodiché, volendo essere un po' cattivi ma è un dato di fatto avendo visto la partita di oggi capiamo perché a Juric questo tipo di giocatore non serve più Lukic e Mandragora che interpretano il ruolo che sarebbe lo stesso di Rincon hanno polmoni, gamba per aggredire, andare, inserirsi per tutta la partita evidentemente Rincon, vista anche l'anagrafe, ha ritmi un po' più blandi comunque è un giocatore che non è un regista, non è Torreira evidentemente ma in questo momento la Samp serve per dare un po' di ordine e un po' di aggressività in mezzo al campo si è perso in questa partita ancora una volta Christopher Askiltsen che se nel primo tempo qualche pallone l'ha recuperato con discrete letture dà sempre però l'impressione che gli scotti quando il pallone ce l'ha tra i piedi da segnalare due prestazioni da salvare quella di Bereshensky nel finale che è stato al limite del commovente quando è stato spostato come difensore centrale ha dovuto sbrigare delle pratiche fastidiose perché tante volte il Toro ripartiva in contropiede due contro due in parità numerica e lui è stato bravo a tenere botta ha fatto come spesso gli capita un po' di confusione ma io glielo concedo perché insomma a rientro al termine di una partita comunque dispendiosa chiuderei con l'argomento portiere io non sono un detrattore come tanti iniziano ad essercene secondo me in modo esagerato di Audero legittimo ognuno ha le sue opinioni credo che Audero sia diventato capro espiatorio in modo eccessivo ma diciamo comprensibile secondo alcuni punti di vista più che altro perché quando una squadra perde si va a cercare il problema spesso identificandolo nei singoli e Audero qualche sbavatura quest'anno l'ha fatta non sarà a livello delle prestazioni degli anni scorsi dopodiché non era secondo me lui il problema avevamo tanto materiale per giudicare Audero iniziamo ad averne un po' per giudicare Falcone e Falcone sta rispondendo alla grande evidente allora diciamo mettiamola così fosse stato un altro ruolo l'avrei già visto l'avrei voluto vedere di più Falcone essendo psicologicamente come ben sapete il ruolo del portiere molto molto delicato e non puoi in leggerezza metterti a cambiare in base a come li vedi in settimana come fai con gli altri ruoli io ci sarei ci andavo un po' più cauto detto questo al momento la porta è una delle poche certezze di D'Aversa nel senso che Falcone oggi ha sfoderato una prestazione con dieci parate una e quello è stato il segnale del momento di maggiore difficoltà della Samp ma quando Audero ha tolto dalla porta quella conclusione di Brecalo al quarantesimo deviata in modo letale da Askilsen davvero quella è stata una parata da da urlo strepitosa a coronare una prestazione in cui anche le piccole cose sono state fatte bene l'uscita su Sanabria i tiri teoricamente facili sono stati presi senza sbavature per dire probabilmente oggi a portieri invertiti sarebbe finita molto molto peggio ecco perché Milinkovic-Savic ha a mezzo regalato il gol del vantaggio stava ha concesso a Torsby l'occasione del nuovo vantaggio facendosi scivolare come una saponetta il cross che arrivava da destra aspettiamo cosa arriverà dal mercato si fanno nomi in più o meno tutti i reparti nel senso che si parla di danno per fatto Magnani in difesa può essere un discreto puntello il nome più difficile più suggestivo è quello di Sensi al centrocampo anche se oltre a tutto il discorso fisico ci sarebbe da capire la collocazione tattica ha detto che se arriva Sensi qualche modifica la si può fare ma secondo me Sensi in questo modulo non ha collocazione è una mezzala può fare il trequartista dietro la punta vedremo laddove dovesse arrivare anche Piccoli è un giocatore che chiaramente può aggiungere perché può dare freschezza oggi Caputo non ha sfigurato totalmente ma alla lunga ha perso il duello con lo straripante Bremer che adesso è un giocatore dominante in difesa ed è perfetto per l'interpretazione aggressiva della fase difensiva del Toro di Juric definito satanismo da un articolo che ho letto molto interessante per appunto tratteggiare le idee tattiche applicate da Juric al suo Torino arriva una partita dal peso specifico clamoroso quella contro lo Spezia e quindi lì bisognerà lì le chiacchiere stanno a zero bisogna fare punti perché sennò la stagione prende una piega pericolosa grazie aspetto i vostri commenti qui sotto